delicato come quella dei servizi della Repubblica è impedita dalla nostra assenza dal Copasi. Questo emendamento più volte riproposto offre una soluzione tecnica alla maggioranza, lasciando quindi in vita l'attuale Comitato di Controllo, lasciando in carica gli attuali componenti, anche quelli che si sarebbero dovuti dimettere se avesse avuto semplicemente il buon gusto e il buon senso di rispettare le nuove proporzioni e di consentire la presenza di Forza Italia, aumentando la composizione dell'attuale Comitato. Si farebbe in modo quindi che il Comitato sarebbe più rispettoso dell'attuale composizione del Parlamento. L'emendamento riceve al solito parere contrario di Redatore e Governo. Noi l'abbiamo ripresentato per riproporre anche ai Presidenti di Camera e Senato una questione così grave che viene di volta in volta. bocciata nella indifferenza colpevole e grave del Parlamento. Grazie, onorevole Vito. Metto in votazione il subemendamento 0.4.02.1 Brunetta. Parere contrario Commissione e Governo. È aperta la votazione. Fregolent, Bolognesi, Mura, no. Ok. Altri che non riescono a votare, non vedo mani alzate, è chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo all'emendamento 4.02 Gianluca Pini. Parere contrario Commissione e Governo. È aperta la votazione. Capone. Capone. ci siamo? Sì. È chiusa la votazione. La Camera respinge. 4.03 Gianluca Pini. Parere contrario Commissione e Governo. È anche della Quinta Commissione. È aperta la votazione. Pilozzi. Marazziti. Binetti. Massa. Bernini Paolo. Calabrò. È chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo all'emendamento 4.050 delle Commissioni con il parere favorevole di Commissione e Governo. È aperta la votazione. Ci siamo? Di Lello. Carloni. è chiusa la votazione. La Camera approva. Votiamo ora l'articolo 5. È aperta la votazione. Stiamo votando l'articolo 5. Di Lello. Binetti. Gigli. Proviamo? Onorevole Gigli. Bene. È chiusa la votazione. La Camera approva. Passiamo al voto dell'articolo 6. È aperta la votazione. Ci siamo?